Hey, sono Marco Canestrari, sono un programmatore, vivo a Londra e questo è il mio podcast. Anni fa ho lavorato con Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Insieme a Nicola Biondo ho scritto due libri sul Movimento 5 Stelle, Supernova e il Sistema Casaleggio. Se ti appassionano l'attualità, la politica, l'economia, la tecnologia, questo podcast fa per te. Ogni settimana commento i fatti più interessanti e racconto in retroscena del partito più improbabile della storia. Talvolta ospiterò qualche amico e farò sentire i vostri messaggi rispondendo alle vostre domande che potete inviarmi dal sito www.marcocanestrari.it. Quello che stai per ascoltare è la registrazione di un episodio di Osservatorio Movimento 5 Stelle, la mia rubrica su Liberi Oltre insieme a Nicola Biondo e Costantino De Blasi. Puoi trovare il video di questa chiacchierata e tanti altri contenuti di altissima qualità sul canale YouTube di Liberi Oltre le Illusioni. Allora, buonasera, puntata eccezionale di cari fottutissimi amici, eccezionale per molte ragioni. La prima è che Nicola Biondo non sta guardando la partita Palermo-Padova, vero Nicola? Assolutamente sì invece, è pieno di megaschermi qui ma siccome vi voglio bene. Ecco, non potevi mancare. Piuttosto tu sei in una specie di caverna viterlese piena di bollicine, dove sei? Sono in un hotel in Molise. Solita classe dominante. Eh, in Molise, guarda, proprio dominante deve essere. Quale ambasciata te l'ha pagato, dici? Ve lo dirò dopo, durante la puntata. Ma non è, questa puntata non è eccezionale per questo, perché Nicola lo conoscete. No, no, infatti è eccezionale perché Marta e Giulio ci onorano della loro presenza. Esatto. E di questo vi ringrazio. Poi c'è la presenza ai canestrari, che è quello che posta gli scontrini. Che eccezionalmente è tornato a Londra. Esatto, che posta gli scontrini e fa arrabbiare la rete, insomma. Mi sono divertito un sacco con lo scontrino. No, grazie Marta per essere qua. Marta è una carissima amica. Abbiamo presentato il libro che sta andando benissimo, Brigate Russe, quanto mai attuale. Non che quando lo presentavamo non fosse attuale, solo che non si sapevamo, non immaginavamo che cosa sarebbe successo poi. Adesso è diventato drammaticamente attuale. Esatto, esatto. Drammaticamente attuale. Proveremo a parlarne, i temi sono moltissimi. Mi faccio aiutare da Giulio Anichini. Primo perché mi fa piacere passare un po' di tempo con Giulio. È sempre molto piacevole e divertente. Secondo perché si è offerto di far parte dei fottutissimi amici. Terzo perché probabilmente avrò durante questa live dei problemi drammatici di Wi-Fi. Quindi Giulio è necessario anche per quello. Perché si è rifatto l'ambasciata scarsa. Eh sì, è vero. Te l'hanno pagata agli armeni questo albergo. Che vergogna. I georgiani, anzi peggio, ma anche Messi peggio. Se tutto va bene perché l'Armenia è più povera, ma almeno non rischia di essere invasa. Perché già di fatto è un protettorato russo. Grande Marta, così si fa. Si entra a gamba testa su Costantino. Ottimo, ottimo inizio. Allora, l'altra volta ci lasciamo con Nick Biondo che se ne uscì con un ricordo, uno dei suoi. Perché essendo vecchio gli vengono in mente certe cose. E ricordò le polemiche sul termine pietaloso. E dicevamo, vabbè, questo è il titolo adatto a questa serata. Serata pietalosa, giornalisti pietalosi e liste di proscrizione. Perché io avevo pensato che avremmo parlato fondamentalmente di quello che è successo. Poi mi piace sentire che cosa ne pensa Marta, che cosa ne pensa Giulio. Di questa levata di scudi da parte di un certo tipo di giornalismo che si sente evidentemente sotto attacco, censurato. E che ci ricorda tutte le serie in tv in prima serata che è censurato. Quindi pensavo di partire da questo. Però ripeto, i temi sono tantissimi. Poi un'incursione sulla Palermo in cui i presidenti di seggio non si presentano. Puro mi sarebbe piacere fare. Uno era biondo che doveva vedere la partita. Io ho perso ormai i diritti politici attivi, passivi, tutti. Per cui non potrei fare il presidente di seggio. Peraltro sono residente in provincia di Trapani. Per cui non c'entro niente. Non iniziamo con sta cosa. Se volete poi ve lo dico. Nick, controlla di una cuffia che mi sa che c'è un contatto col microfono. Sì, come l'altra volta. Poi passa, poi passa. Poi passa, poi passa. La cuffia ha bisogno della grappa. Poi arriva. Ragazzi, vi lascio la palla. A voi dite tutto quello che volete. Io cedo volentieri a Marta prima perché... Bravo. Perché ovvi motivi di esperienza in realtà. Quindi direi... Ma allora... Beh, oddio. La questione è quanto mai delicata. E tra le altre cose più si va avanti, più c'è un'esasperazione dei toni, no? Perché dall'altra parte, anziché fare un mea culpo, o almeno farsi una domanda, coltivare il dubbio, no? Come si dice in questi casi. Che, insomma, si sia stati almeno un po' superficiali, diciamo, no? Nella linea editoriale con la quale è stata trattata questa guerra. Al contrario, si alza la bandierina pericolosissima dalla lista di proscrizione. Ed è un problema. È un problema perché poi, chiaramente, chi si oppone a questa narrazione patirà delle conseguenze, no? Il mio ambiente si sa che certe persone contro non te le devi tirare, perché se succede poi esci da determinate logiche. Qualcuno se la può avere a male. Però rimane il fatto che, secondo me, c'è un rischio che non è mai stato così alto all'interno della storia recente della democrazia italiana. Noi siamo, in questo momento, sotto un forte attacco di Infowar da parte dei russi. Davvero un attacco che non ha precedente, che può essere paragonato solo a quello nel 2016 in occasione delle presidenziali e a quello, sempre nel 2016, in occasione del referendum sulla Brexit. Entrambi i risultati che i troll sono riusciti a viziare, in qualche modo. Però il problema è che i miei colleghi non se ne sono resi conto o non se ne vogliono rendere conto. Peraltro, quando si dice che c'è questo clima di censura, eccetera, io credo che la censura l'abbiano operata per primi loro, invitando sostanzialmente solo propagandisti di regime, non voci critiche nei confronti del regime di Vladimir Putin. Devo dire che, visto il livello medio dei commentatori che hanno scelto, potevano astenersi, perché hanno veramente invitato, voglio dire, persone di bassissimo cabotaggio, incapaci anche da filo putiniani di fare un'analisi che comunque avesse una dignità, anche giornalistica. Uno può essere comunque filo putin e riuscirsi a esprimere in modi pacati e circostanziati. Chiaro che più devi difendere un regime, più questo diventa difficile. Però, prima della guerra, c'erano comunque commentatori, evidentemente schierati dalla parte del Cremlino, che nella loro impresentabilità dal punto di vista dei contenuti, erano comunque almeno presentabili dal punto di vista della forma. Non si è neanche scelto di invitare questa gente. Si è proprio mandata in onda l'ala squatter del putinismo, permettetemi di usare questa espressione. Tacciando poi come giornalisti quelli che sono a tutti gli effetti i propagandisti di regime. Se una lavora per la televisione e del Ministero della Difesa, volendola definire nella maniera più fine possibile, per quanto io direi anche inopportuna, è una civil servant, non è una giornalista. E stiamo comunque, la stiamo comunque definendo in maniera assolutamente polite. In una situazione del genere si invita evidentemente una propagandista di regime. Vuoi intervistare il ministro degli esteri russo? Per carità, va bene, ha uno scoop. Vuoi fare questo scoop? Non c'è problema. Però prima fatti venire un dubbio, perché Sergei Lavrov è uno che di solito non parla. Non parla perché Sergei Lavrov è di formazione un diplomatico, non è né un politico né un comunicatore, quindi è evidente che non sa gestire determinati tipi di situazione. E che se si fa invitare, se si fa intervistare, è perché sa che va a fare un comizio. Ora, che valore ha fare un'intervista di quel tipo? Che poi un'intervista non era. Ma soprattutto non aveva neanche a fianco una squadra che facesse un minimo di fact-checking. Quindi veramente si è permesso di dire a Lavrov delle cose che il giorno dopo, con un minimo di analisi, si è scoperto essere cose false, prive di fondamento. E qui vi ricordate anche sicuramente la polemica, il caso diplomatico che c'è stato proprio con Israele. Perciò, insomma, noi siamo arrivati a un livello bassissimo. Io non ho veramente più parole per definirlo e non vi nascondo che vivo questa situazione con immenso disagio da giornalista. Credo... Marco, scusami se ti interrompo. Tu sei stata fra le prime a rifiutarti di andare in certe trasmissioni? Sì, subito, subito, sì. Subito. Me lo ricordo perfettamente i giorni che non c'essero. Sì, ma allora, attenzione, io ho rifiutato di andare in queste trasmissioni quando non c'era ancora questa carrellata di insigni ospiti, chiamiamoli così. Perché? Perché secondo me i talk show non sono informazione, sono infotainment, per carità. Io poi non ho nulla incontrato. Cioè, nel senso, uno può fare un talk show e farlo bene, non ci sono problemi. Però, ecco, io sono una giornalista che comunque si occupa di argomenti estremamente settoriali, paesi estremamente complicati già da spiegare nei miei pezzi o in collegamenti, in trasmissioni dove sono andata, dove però si fa approfondimento, ci sono giornalisti che sanno fare questo mestiere e, insomma, gli ospiti vengono, diciamo, scelti con altri criteri. E già così, però, il mezzo televisivo, che è il mezzo della sintesi proprio, è davvero difficile spiegare una situazione così complessa. Figuriamoci poi in un format che poi di fondo è un'arena dove si fa a gara chi urla di più. Quindi, veramente, io quando mi hanno invitato, tra le altre cose, tra questi c'è stato anche il conduttore di Zona Bianca che poi ha intervistato la Vroff, io, in tempi proprio non sospetti, ho detto, guarda, senza offesa, io rispetto il vostro lavoro, ma davvero non penso di poter apportare alcun elemento di valore perché it's not my cup of tea, molto semplicemente. E quindi, ecco, l'unica cosa che mi console è che io ritengo che ci sia stata una cesura molto netta su come si è trattata questa guerra tra i talk show, altri tipi di trasmissioni televisive, perché comunque c'è chi ha fatto un buon lavoro, non ce lo dobbiamo dimenticare, e poi i quotidiani. E poi, secondo me, mai come in questa guerra, e questo per me, che comunque sono una professionista del settore molto interessante, hanno preso piede altri format, altri mezzi che non sono testate giornalistiche, come per esempio questo spazio, o penso anche a quello di Ivan Grieco, e che hanno un grandissimo seguito proprio perché si guarda alla qualità dell'interlocutore. Quindi si invita Marco Ottaviani perché è una persona che è specializzata su determinati argomenti. Se faceste una puntata sulla scuola, Marta Ottaviani sarebbe una spettatrice assolutamente interessata all'argomento, però giustamente mai più bisognereste di invitarmi, perché chiaramente io non sono specializzata sulla scuola, quindi magari posso dire anche cose non stupide, ma non da detta ai lavori. E io ritengo, non vorrei essere troppo ottimista, che ci sia sempre più una domanda di spazi di informazione, ma che possono anche essere di intrattenimento. Noi in questo momento in qualche modo stiamo facendo infotainment, perché queste sono più che altro delle chiacchierate, però le stiamo facendo diciamo con grano salis, senza nessuno che urla, senza invitati propagandisti di regime, tra le altre cose, per ricollegarmi al discorso di prima, e poi io chiudo, perché non sono stati invitati i giornalisti dissidenti russi. Io ne ho visti veramente pochi in onda. Allora, io questi talk show non li ho guardati, però dai resoconti dei giorni successivi non mi è sembrato che si sia data molta voce alle voci che ci sono, e sono tante. Tra l'altro in questo momento ci sono 150 colleghi che sono scappati e quindi dal loro osservatorio all'estero probabilmente sarebbero anche più liberi di parlare. Sono tutti, tra l'altro, giornalisti giovani che parlano un inglese meraviglioso, quindi io veramente non capisco quale limite ci possa essere stato per non invitarli. Un giorno, se non mi ricordo male, Jacopo Iacobogna addirittura ha fatto una lista su Twitter, guardate se non li conoscete, ve li dico io, ci sono tizio, caio, semprogno, ovviamente nessuno di loro è stato invitato. Quindi, insomma, io non voglio nemmeno pensare che ci sia della malafede deliberata, io continuo a pensare che sia una questione di attaccamento all'audience e di risultati proprio in termini di ascolti. Però, stanno facendo, cari colleghi, state facendo un gioco molto pericoloso e se continua così, rischiate di avere sulla coscienza il risultato del prossimo voto politico del 2023. 2023, lo dico proprio da persona che ormai studia la Info World Russa da qualche anno. Scusa Marco, se vuoi parlare parla, io ho una domanda, ma vai, vai. Vai, 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 vai con la domanda, assolutamente. Appunto, Marta, scusami, tu che lavori appunto in questo settore che chiaramente hai un'esperienza incredibile, io ti faccio una domanda da perfetto ignorante. A parte il fatto che seguo relativamente di meno gli show italiani per il semplice fatto che sono dieci anni e vivo all'estero, ma provo a vedere qualche spezzone su YouTube, ovviamente, o online, quando posso. Ma c'è possibilmente anche un discorso di linea editoriale che influisce su questo, secondo te o no? Nel senso, alla fine in Italia comunque, a livello di televisione pubblica, abbiamo la RAI, c'è il problema, diciamo, tra virgolette della pressione politica che almeno fino a quando me ne sono andato io era un problema enorme e so che se ne dibatte ancora. Zona bianca, se non sbaglio, è Mediaset. Sì. Perché anche là non si è mai capito, da esterno, ripeto, da completo ignorante, non si è mai capito quali siano i tipi di pressioni politiche che si esercitano a livello del giornalismo di Mediaset, nel senso che ovviamente Mediaset era della famiglia Berlusconi fino a poco tempo fa, però non so se ha venduto quote o cose del genere. Quindi ecco, ti chiedo, c'è un ruolo di quel tipo o semplicemente è un discorso di audience, secondo te? Ma allora, da fuori è difficile da dire. Io posso dire che secondo me in questo momento è ancora preponderante la componente di audience. Non ci dimentichiamo, però, che vengono invitate persone, faccio un nome per tutti, Michele Santoro, che ha chiaramente un'impostazione ideologica di un certo tipo. e chi lo invita lo sa, insomma, non è sicuramente una novità, quindi, e poi oltretutto mi dà un po' di fastidio, come dire, motivare questa che ha un'immensa pagliacciata, quello che sta andando in onda, con la libertà di espressione. Perché io, figuratevi, per me la libertà di espressione è sacra, non deve essere censurato nessuno, perché nel momento in cui noi censuriamo chiunque ci mettiamo sullo stesso livello dei russi. Quindi, abdichiamo a quelli che sono i valori in cui crediamo e diamo una grandissima soddisfazione ai russi quando facciamo vedere che ci possiamo comportare come loro, perché poi lo spiega molto bene Surkov, che è uno degli ideologi del putinismo. L'obiettivo è quello di far passare l'idea che le democrature sono meglio delle democrazie. Noi, figuriamoci, dobbiamo essere, combattere contro questa cosa e dimostrare che invece anche in un regime di libertà di espressione noi riusciamo a tenere la barra dritta. Però, signori, c'è bisogno anche di professionisti preparati, consapevoli. Oltretutto, noi di professionisti preparati ne abbiamo tantissimi, sono molto spesso professionisti preparati anche quelli che stanno all'interno di queste redazioni. E io spero, davvero, mi auguro di cuore che abbiano preso coscienza del fatto che, lo ripeto un'altra volta, il gioco a cui stanno giocando, perché secondo me in questo momento ancora di gioco si tratta, è un gioco estremamente pericoloso. Anche perché noi storicamente siamo visti dalla Russia come un paese amico e potenzialmente malleabile. Perché? Perché i russi si fanno i fatti nostri da una vita. Diciamolo, noi abbiamo avuto il partito comunista più potente d'Europa dove alcuni suoi figli a tutt'oggi guardano alla Russia con favore e non è un mistero che una corrente del PD minoritaria sicuramente, ma sta facendo grosse pressioni su Letta perché cambi in qualche modo la sua policy nei confronti della Russia di Putin. Con qualche risultato ultimamente probabilmente. Esatto, esatto, esatto. Abbiamo poi un ex presidente del Consiglio, l'abbiamo nominato prima, che con Putin è sempre stato in rapporti d'amicizia e proprio ieri o oggi ha dichiarato che lui fosse stato capo di governo sarebbe andato a Mosca, quindi insomma più di così. E abbiamo anche due forze politiche per PAC-11 parliamo anche di quegli altri che hanno dei solidi rapporti direi con la Russia di Putin, a qualcuno pagano anche i biglietti aerei, quindi insomma più, cioè è chiaro che la Russia mettendomi nei panni di Putin anch'io penserei puntiamo sull'Italia perché questi ce li possiamo far su in qualche modo e il problema è che noi non ce ne rendiamo evidentemente abbastanza conto e soprattutto siamo sempre molto bravi a demolirci noi italiani ma ci sfugge un piccolo particolare che noi siamo un paese del G7 un paese fondatore dell'Europa un membro della Nato e il secondo manifatturiero di Europa è chiaro che noi alla Russia così facciamo vola tra l'altro la Russia e qui c'è come sempre da citare il libro di Jacopo Iacoboni e Giampaolo Paolucci oligarchi si è già conquistata all'interno del nostro paese come dire posizioni per quanto riguarda beni mobili e immobili di una certa esposizione quindi insomma davvero dobbiamo stare attenti perché noi rischiamo di diventare un paese satellite chiaro non come la Bielorussia di Lukashenko siamo d'accordo su questo però è chiaro che rischiamo e io mi dispiace ma capisco assolutamente quei paesi dell'Unione Europea per i quali noi adesso siamo un problema sempre per tornare alla questione talk show sono comparsi degli articoli su Le Monde se mi ricordo bene su Le Figaro e su Politico dot EU ecco io onestamente ve lo dico la giornalista non mi sono vergognata così tanto nemmeno ai tempi del Bunga Bunga dove ero all'estero tra le altre cose ero in Turchia quindi figuratevi avevo tutti i corrispondenti stranieri che tutti i giorni mi facevano battutine sulle come dire le prestazioni le mirabolanti prestazioni di Berlusconi però ecco almeno lì si rideva in qualche modo qui signori c'è veramente da preoccuparsi e la cosa che davvero mi preoccupa maggiormente è che una parte della nostra classe politica non ha ancora capito quale sia la posta in gioco o peggio ancora l'ha capito ma non lo vuole ammettere in qualche modo ma sai in fondo la visione che gli italiani hanno di Putin è un po' un Berlusconi straniero per cui in un certo senso il campo è stato arato la cosa che a me ha fatto molto impressione è questa che la massima esposizione penetrazione delle info ops russe in Italia è avvenuta dal 2014 al 2018 lì hanno arato il terreno e in quel periodo c'era il PD al governo è un PD anche molto forte ora Marco lo ricorderà noi nel 2016 non su un quotidiano qualsiasi ma su Repubblica sulla stampa e sul Corriere ospitarono in maniera anche devo dire generosa e questo non ce lo dimentichiamo ospitarono uno dei nostri capitoli in anticipazione di Supernova dove c'era un capitolo tutto che raccontava questi rapporti incestuosi anche un po' folli con note di colore divertenti gli incontri di Battista in ambasciata russa eravamo nel 2016 15-16 e questa cosa uscì fuori e uscì fuori da insomma da quella non me ne vogliate insomma è una sintesi dalla Wikileaks del Movimento 5 Stelle e e nessuno se ne accorse ma non solo nessuno se ne accorse adesso rivelo una cosa divertente se ne accorsero all'ambasciata americana di Via Veneto dove io e Marco fummo chiamati e ci fu insomma fatto una serie di domande ma davvero è così? Pensa che poi io ho cominciato a frequentare gli Stati Uniti da quel momento fate un po' più duro poi Marco ha iniziato a frequentare gli Stati Uniti credo che si paghi anzi credo che la moglie di Marco paghi tutti i viaggi di suo marito negli Stati Uniti non glieli paga l'ambasciata furono gli stessi anni Marta e Giulio in cui mentre io e Marco raccontavamo queste cose il 2016 l'ambasciata l'ambasciata dava un messaggio molto schietto al Movimento 5 Stelle per esempio perché il problema continuo a dire non è mai stata la Lega noi non avremo mai un Presidente del Consiglio della Lega mai mai e poi mai quindi il problema non era la Lega fu detto ai vertici del Movimento 5 Stelle con i loro rapporti con i russi voi state giocando col fuoco smettetela e in quegli anni per esempio i vertici ai servizi segreti italiani spianavano la carriera al Professor Orsini è molto semplice i nostri servizi segreti italiani sono i maggiori colpevoli di queste penetrazioni informative espionistiche punto punto perché non c'era bisogno che lo raccontassimo io e Marco nel 2016 loro lo sapevano e lo sapevano così bene che infatti fanno una scelta di campo in questo Silvio Berlusconi con gli slogan è imbattibile e la scelta di campo fu quella per esempio aprire per banca intesa una serie di affidavit per fare in modo che miliardi e miliardi di euro arrivassero in Italia perché poi gli oligarchi di cui Jacopo racconta tutte queste cose possono avvenire solo se le banche italiane aprono quelle linee di credito se no non puoi comprare niente in Italia e questo è stato fatto è stato fatto sotto i governi Renzi e sotto i governi Gentiloni e quella fu una scelta di campo che noi adesso stiamo pagando molto semplice io aggiungo soltanto una cosa limitandomi soprattutto su questo argomento a quello che so per per esperienza non diretta direttissima e faccio soltanto un esempio che però riguarda un aspetto che va considerato ne ha accennato prima Marta è che è la reazione del giornalismo italiano quando iniziarono come diceva Nicola intorno al 2014 forse un pochino prima perché i Casaleggio avevano qualche precedente con il mondo russo diciamo però senza andare così indietro comunque in quel in quel periodo quando io e Nicola e anche Jacopo Jacoboni cominciavamo a far notare queste queste attività c'erano reazioni tra il divertito e come dire venivamo trattati un po' come 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 dei ragazzini che si inventavano o o i nerd che che esageravano quello che quello che stava succedendo e passando all'esperienza diretta io posso testimoniare che ci sono giornalisti anche importanti che letteralmente non capiscono di cosa stiamo parlando quando parliamo di questi argomenti non ho assolutamente dubbi non ho assolutamente dubbi perché non capiscono anche tante altre cose quindi io parlo di persone che letteralmente non sono in grado di accendere un computer o di utilizzare uno smartphone e che che prendono in giro i colleghi che parlano di queste di questi di questi argomenti in maniera anche anche molto sprezzante ma perché letteralmente non capiscono non conoscono il tema non conoscono l'argomento e quindi ritengono che sia una stronzata per dirla molto molto chiaramente molto terra terra e scusate il termine soprattutto su Twitch speriamo che non non ci banni non sarò più attento ma sì c'è la mitica canzone dei Maneskin che è diventata il mio punto di riferimento brava marca quello è esattamente quello che è successo su questo tema perché perché letteralmente noi abbiamo detto spesso in questa in questo spazio il il mondo è diventato un posto molto complesso molto complicato ed è impossibile che qualcuno capisca in maniera sufficiente di tutti gli argomenti e quindi sarebbe bello che ciascuno si limitasse a quello che conosce però non avviene non avviene e quindi succedono queste cose che persone parlano di cose che non capiscono però benedetto signore allora è un fatto che la CIA abbia finanziato i partiti anticomunisti in Italia fin dal 45 46 47 terpi si chiamava OSS per cui io mi aspetto da una persona che è abituata a scrivere che guardi la sinistra e la destra cioè è evidente che il nostro è stato un paese di frontiera ora noi abbiamo propagandisti di Putin che in confronto possutta se Stalin avesse mandato i carri armati si sarebbe messo lì su piazza San Pietro a difendere il papa per cui sì ma tu tocchi un punto molto importante scusate se ti interrompo ma questo va sottolineato prego no figurati allora durante il comunismo questi andavano a bussare a una porta sola perché sapevano che non avevano neanche bisogno di bussare la trovavano già aperta e poi c'era la componente ideologica il putinismo di componenti ideologica non è solo quella di andare a devastare a distruggere il dibattito pubblico negli altri paesi e per farlo si infilano dove riescono indipendentemente dal colore politico non gliene frega assolutamente nulla guardano l'opportunità e anche ovviamente l'opportunità d'affari però davvero sono spietati in questo e purtroppo io temo che i nostri politici ma non solo e nemmeno solo i giornalisti non lo abbiano ancora capito no ma sai non è questione secondo me non è neanche questione di capire il giornalismo italiano è fatto in una maniera tale che deve seguire il potere senza il potere non è niente non gli interessa raccontare il potere gli interessa stargli accanto perché nella loro testa pensano che il giornalismo serva a manipolare il potere in realtà è l'esatto contrario perché qualsiasi potere ci sia se tu lo racconti è un conto ma se tu gli devi camminare accanto per poi alla fine della parabola di quel potere chiamiamolo a poi il potere a declina e allora il giornalismo italiano si fa forte fa le spalle grosse e invece di essere un po' mingerlino come me fa il fico e lo abbatte la storia del giornalismo italiano è fondamentalmente questa con delle perle di saggezza e le cose meravigliose dei sacrifici e un tributo di sangue che insomma forse solo i paesi sudamericani o la Russia può diciamo raccontare come il nostro ma in linea generale in linea generale è questo scusate la frase abusata e poi mi fermo ma la guerra in Ucraina è veramente un meraviglioso microscopio una cartina di tornasole che racconta anche pezzi del potere italiano e lo racconta nelle sue nei suoi modi più più miserabili ecco come diceva mi pare Guido Vitiello qualche settimana fa è miserabile ma c'è del metodo dietro questa miseria ed è questo è fondamentalmente così sì parlavamo a proposito di infiltrazione e penetrazione della propaganda russa in Italia credo sia utile ricordare così mi do un'utilità nella trasmissione il cambio di paradigma che il blog di Grillo che all'epoca era anche formalmente il la sede del partito del movimento 5 stelle proprio formalmente da statuto era il blog di Grillo la sede del partito e sicuramente l'organo di comunicazione ufficiale che nel in occasione delle delle elezioni europee del 2014 dopo un anno dalle elezioni politiche cambia completamente completamente a 180 gradi posizione nei confronti della Russia di Putin passando dalla pubblicazione di articoli lo citiamo spesso quando capita di farlo in memoria in favore di Anna Politoskaya contro la chiaramente contro il regime di Putin a quell'intervista clamorosa di Grillo a Enrico non so se era Mentana credo che fosse una traduzione di Mentana 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 marzo 2014 esatto in cui cambia completamente appunto opinione e di fatto cambia la posizione del partito sul tema elogiando la Russia di Putin cominciando la narrativa che abbiamo visto in questi anni e quello che ci chiedevamo io e Nicola nel nostro libro era visto che nello stesso periodo i siti gestiti da Caseleggio Associati che gestiva anche il Doddi Grillo che in quel momento perché in quel momento non esisteva ricordiamo l'associazione era proprio l'azienda Caseleggio Associati che amministrava di fatto il partito comincia l'azienda i siti gestiti da quell'azienda la fucina la cosa a rilanciare la propaganda russa su appunto queste testate che ospitavano anche advertisement quello che ci siamo sempre chiesti è se l'aspetto economico di tutta la faccenda avesse trainato quello politico o viceversa questa è una domanda che è ancora rimasta senza risposte io sto provando a ottenere qualche risposta nel processo che mi vede che mi ha appunto la causa che mi ha intentato la cosa civile che mi ha intentato Casaleggio e sto cercando appunto di ottenere qualche risposta per provare il mio punto ma al momento queste risposte non ci sono guarda la domanda andrebbe girata a sua eccellenza l'ambasciatore ma solo e nel periodo in cui lui era capo del dis che succedono le cose più incredibili nella propaganda russa in questo paese quindi queste sono le domande perché adesso siamo tutti bravi a dire ma Putin è un cattivone ma ci sono personaggi un po' strani e tutto il resto il punto è andare alla radice quando le cose sono state progettate e poi sono state messe in campo e le abbiamo viste è tutto qui è come chi parla di deficit pubblico italiano di disavanzo e dice è però la colpa è dei politici no la colpa è di chi l'ha fatta nei politici nell'amministrazione nei piani alti dello stato italiano è questo il punto io ho un dubbio che a prescindere ovviamente dagli argomenti che avete toccato voi noi abbiamo questo brutto difetto di considerarci sempre più furbi e più scaltri degli altri quindi insomma tenere il piede in più scarpe intanto alla fine la spuntiamo noi e invece non ci rendiamo conto che noi questa cosa non la sappiamo fare c'è poco da fare perché comunque i russi ci stanno manipolando con una facilità impressionante ed è ancora più imbarazzante tutto questo se si conta che noi siamo gli ultimi in ordine di tempo in cui l'ultimo paese in ordine di tempo in cui la infowar ha colpito in maniera così violenta tu giustamente hai detto che preparavano il terreno da tempo la infowar infatti non la scateni dall'oggio al domani hai bisogno di tutta una preparazione che può durare anche anni però ragazzi noi abbiamo l'esempio degli Stati Uniti l'esempio della Brexit l'esempio delle elezioni tedesche l'esempio cosa hanno patito le ex repubbliche baltiche e l'Ucraina tra il 2013 e il 2014 non abbiamo imparato assolutamente nulla e io ho un dubbio che ci sia anche purtroppo una grandissima impreparazione almeno da parte della nostra classe politica perché diciamolo molto serenamente l'Italia paradossalmente se si guarda la posizione geografica non è un paese che abbia skills e come dire professionalità che sanno davvero occuparsi di esteri ce ne sono pochissime ce ne sono pochissime tra i nostri parlamentari quelli bravi sugli esteri che mi vengono in mente stanno sulle dita ad una mano molto meno quindi veramente siamo questa cosa qui ed è chiaro che invece la Russia che è portatrice una politica neoimperiale che è stata un grande impero che ha avuto il comunismo che comunque era una delle due parti che si contendeva il mondo questa cosa l'ha capita perfettamente il problema qual è non mi ricordo chi lo diceva prima forse Marco noi andiamo incontro a un mondo che è estremamente complicato dove la infowar viene utilizzata da tutti in maniera diversa e dove ci sono degli attori come la Cina come l'Iran come la Turchia altro paese che io conosco piuttosto bene che stanno cercando di fregarci a vario titolo e noi siamo ancora qui con raffinate analistiche che dicono con Erdogan bisogna trattare inizia a capire chi sia chi sia Egepta Iperdon e cosa sia la Turchia a cui Erdogan ha dato vita e poi capisci quello che devi fare però io davvero veramente vedo un dilettantismo in tanti ambienti anche ad alti livelli che mi lascia senza parole ecco io volevo lasciarmi proprio su questo perché volevo proprio dire questo sulla base di quello che ha appena detto Marta che a me sembra diciamo io lavoro in un ambito tra virgolette appunto scientifico e quello che a me sembra è una serie di cose perché qualcuno prima chiedeva ulteriori delucidazioni per esempio sull'ascesa di Orsini che per me era un assoluto signore nessuno tanto è vero che in una delle prime live che facemmo sull'Ucraina ci facemmo crasse risate perché ero convinto che ci nominarono Orsini in chat e ero convinto o qualcuno dei presenti non ricordo che avesse nominato Orfini e allora cominciai a dare una risposta articolatissima sul fatto che il PD c'era una corrente che appunto era filorussa bla 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 solo per sentirvi dire dopo un po' guarda che un tizio si aveva Orsini che io non avevo mai sentito rovinare allora ho detto comunque ragazzi cancellate tutto quello che avete detto racconti una cosa della quale vado fierissima io la prima è l'unica volta che ho interagito col professor Orsini è stato nel 2014 ero ospite al TG Com ed ero appena tornata da Kobane Kobane come voi sapete dove c'è stato questo assedio veramente eroico da parte dei kurdi contro lo stato islamico con la Turchia che aveva schierati i carri armati per non far passare i kurdi che andavano a combattere e io vedevo gli omini dell'Isis che invece facevano quello che volevano sul confine niente torno e durante questo sciagurato collegamento al TG Com Orsini con la S dice a un certo punto che la Turchia stava facendo grandi sforzi per aiutare la NATO contro lo stato islamico al che io gli chiedo gentilmente professore mi scusi ma lei cosa sta dicendo su quali dati si basa quali sono le evidenze che la portano andiamo in pubblicità e io dico al conduttore ma questo dove lo siete andati a prendere ma tu ti rendi conto della fesseria che ha detto in diretta e insomma da quel momento infatti ho detto guarda scusami ma se l'interlocutore è questo davvero se mi dovete invitare quello che il bastian contrario che mi deve dire la panzanata di turno e questo era come io avevo catalogato Orsini però e voi immaginatevi nel frattempo che dimensioni ha assunto il fenomeno ma appunto questo perché vengo al punto questo è abbastanza rivelatore perché l'avevo detto in un'altra puntata appunto proprio di CFA che io sono abbastanza sconvolto devo dire vedendo fra l'altro come si costruisce una carriera e la fatica che ho fatto per costruirmi una carriera qua e che ancora sto facendo dal fatto che una persona con quel tipo di curriculum ma accademico venga invitato in prima serata perché Orsini è uno che onestamente da un punto di vista del curriculum è estremamente mediocre da un punto di vista del curriculum beh non solo lui non solo lui appunto ne sono stati invitati e non solo dal punto di vista del curriculum di supposti analisti che poi vai a vedere spulcia spulcia o di metra pensè no? di che esatto considerati eredi a loro volta di grandissimi metra pensè eccetera che invece poi spulci spulci va a vedere chi sono è nulla totale in Italia pieno purtroppo e qua veniamo al punto e qua veniamo al punto cioè c'è un retroterra culturale qua che è molto preoccupante ci sono delle a parte che c'è un retroterra ideologico che è trans fra l'altro è trans partitico cioè il discorso della Russia del per cui siamo diciamo tra virgolette un paese che ha sempre stessato un po' l'occhio alla Russia risale come hai giustamente detto anche tu prima al fatto che abbiamo avuto il più grosso partito comunista dell'Occidente e che c'è una mentalità socialisteggiante nel senso spregiativo del termine che probabilmente è trasversale a diversi partiti c'è questo statalismo c'è questo statalismo onnipresente in Italia che secondo me è la nostra dannazione eterna tra l'altro ma c'è un'oritaria culturale che è andato impoverendosi moltissimo negli ultimi almeno 20-30 anni su cui secondo me la Russia ha gioco facilissimo nel senso la info war la fai meglio con la gente che è ignorante e che su questo sfondi una porta aperta devo dire che poi purtroppo nel nostro paese c'è anche poca meritocrazia e nell'ambiente non posso dire non conosco bene quello accademico ma sicuramente in quello giornalistico molto spesso entri nelle redazioni perché sei l'amico di e quindi molto probabilmente parlo di redazioni televisive però ecco diciamo che non sempre viene guardato il merito prima di prenderti quello accademico è peggio immaginavo immaginavo e quindi è questa mancanza di meritocrazia dove sostanzialmente di solito se uno è di sinistra gli arriva quello di destra gli sta sulle balle e viceversa non perciò veramente è un grosso problema però avete detto giustamente voi è un problema culturale io vi devo dire molto serenamente scusatemi se la metto in questa maniera drammatica non sono per nulla ottimista non ho figli e meno male perché altrimenti non dormirei la notte ma quando penso ai miei nipoti io onestamente spero se ne vadano lo dico molto serenamente poi attenzione magari tra 20 anni saranno tre adulti in un paese meraviglioso completamente diverso e mi diranno zia guarda non capivi veramente nulla e io non vedo l'ora di sentirmelo dire da tutti però vi devo dire che le mie speranze sono veramente molto scarse perché io vorrei raccontarvi una storia a proposito di come avviene tutto questo nel gennaio 2021 un alto dirigente del MISE il cui curriculum è online io l'ho pubblicato spero che nessuno voglia contestare che sia una sorta di lista di proscrizione ha deciso sapendo come si batte la tastiera la U significa la U la I la I e la Q la Q con questo curriculum di conoscenze tecnologiche ha messo la firma su un documento che permetteva l'accesso all areas a tutta l'amministrazione italiana a un antivirus che si chiama Kaspersky adottato tra le altre cose anche dalla Farnesina scusate esatto mi viene da dire esatto dalla Farnesina dalla Guardia tra i diplomatici un giorno bravissimo quando ho scoperto questa cosa ridendo con un diplomatico ma tra le altre cose anche una persona intelligente ma scusami ma con tutte le e lui mi ha guardato ma tu ci hai preso proprio per dei pirla e io ho detto ma scusatemi secondo me un po' lo siete se posso permettermi perché no no ma vedi allora te la ve la vorrei fare breve uno stato che dà una responsabilità del genere a una dirigente quindi a una sola persona altro che dittature cioè le dittature sono sistemi complessi noi abbiamo dato a questa povera signora la responsabilità di questa cosa enorme io vorrei sapere sempre da quei geni che prendono tre volte lo stipendio perché dovete sapere che ai servizi di sicurezza prendono tre diarie tre uno è lo stipendio che gli tocca con la funzione che hanno poi c'è l'indennità di cravatta cosiddetta indennità di cravatta e poi c'è il terzo stipendio che è la funzione che ricoprono secondo il nulla osta di sicurezza quindi il grado di conoscenza che possono avere su argomenti sensibili e prendono il terzo stipendio io vorrei sapere se quest'altro dirigente del ministero del Mise abbia un nulla osta di sicurezza per avere deciso una cosa così gigantesca cioè deve avere un fascicolo ai servizi perché può essere che questa meravigliosa dirigente che ripeto nel suo curriculum non si ha nessuna capacità nessuna esperienza in campo tecnologico e che mette quella firma così importante una firma che vale centinaia di milioni di euro l'anno ma soprattutto la possibilità data a uno stato come la Russia non alla Svezia o alla Finlandia la possibilità di guardarci dentro la pubblica amministrazione e i ministeri sensibili io vorrei sapere se questa persona ha un fascicolo personale se ha qualche qualche caduta che capita a ciascuno di noi cioè ben detto signore quando fai la richiesta a vent'anni di entrare in polizia vedono se tuo papà tua mamma tuo fratello tuo zio si allunga la lista cioè insomma se c'è qualche disturbato mentale a casa qualcuno che ha avuto problemi con la giustizia e roba del genere a questo servono i servizi di sicurezza ecco perché i primi colpevoli di tutto questo casino sono lì sono lì e hanno nomi e cognomi hanno nomi e cognomi eravamo in tre a raccontare queste cose nel 2016 quando Beppe Grillo Marco lo ricorda bene io lo ricordo benissimo perché ancora ne porto fisicamente le prove addosso Beppe Grillo va da Mentana senza che nessuno sapesse niente per dire una sola cosa importante viva Putin questo dice è evidente che quella notte ai servizi sicurezza italiani non avrebbero dovuto dormire perché avrebbero dovuto dire caspita qui c'è una questione da studiare voglio essere democratico no c'è un problema c'è una questione da studiare l'hanno studiata questi questi geni l'hanno studiata io io che faccio del dubbio la mia fede vi dico che non hanno fatto una mazza non hanno fatto niente perché perché gli conveniva il problema non è trovare un maggiore o quello che era un capitano un ufficiale di basso rango del nostro esercito che ruba con la pennina cioè quella è una buffonata il problema non sono anche se ci fa ovviamente ci fa arrabbiare vedere gli yacht ma vedere quali e quanti banche italiane hanno permesso il passaggio dei soldi sporchi russi in Italia e quello è il punto se volessimo fare davvero delle sanzioni bloccheremmo questi canali finanziari solo che altro che turboliberismo e turbocapitalismo il turbocapitalismo è quello russo in cui con i soldi di di corruzione e di grande speculazione si infilano in questi tubi giganteschi e arrivano dappertutto quella quello è davvero il turbocapitalismo ed è questo che deve fare che deve fare paura insomma faccio un brevissimo inserto un po' più ludico sì grazie Giulio a parte il fatto che Fabio dalle retrovie ti ha aggiustato il microfono grandissimo non so come si fa quindi lo ringraziamo adesso ti senti perfettamente un hacker finlandese Fabio e poi abbiamo io lo conosco Fabio conferma è un hacker finlandese chiaramente con classica faccia ogrofimmica e poi abbiamo avuto il bot russo in chat ragazzi questo è incredibile abbiamo avuto il bot russo si è messo a scrivere in cirilli con chat l'ho bloccato passategli il mio indirizzo in provincia di Trapani noi gli vogliamo bene lo carezziamo lo usiamo per la pesca dal tuo bot russo guarda che biondo c'è pure la piscina non ci amerà tutti e vabbè tanto non resisteremo esatto nessuno glielo ha chiesto a me in realtà piange il cuore lo sai Marta perché l'ho detto da vere puntate cioè io sono appassionatissimo di cultura russa e ero lì a me poi la cosa che dà più fastidio di tutte ero lì per andare in viaggio in Russia in realtà pensavo quest'anno o l'anno prossimo non ci sono mai stato pensa che io ero a Mosca il 22 febbraio mamma mia pensa un po' e non so neanche quando ci potrò tornare adesso c'è tutto questo casino poi io per carità sono ottimista e fiduciosa ma non so se l'ambasciata russa mi rilascerà mai un visto dopo il libro che ho scritto quindi insomma e anche se lo dovesse fare è chiaro che poi in Russia non è che ci vada esattamente tranquillissima non sei a cuore leggero dici no vabbè però io non vorrei ritornarci infatti quello che ho scritto anche nel mio libro che nessuno sa azzardia darmi la russofoba perché io amo la Russia l'adoro e però signori non è colpa mia se questi fanno una politica di infowar da anni che è pericolosa per la stabilità dell'ordine mondiale cioè mica glielo ho chiesto io di farla quindi poi oltretutto determinate persone che ti dicono ah c'è un pregiudizio nei confronti della Russia allora io su una scala da 1 a 10 al 2% da 2 posso anche essere d'accordo con questa cosa però la Russia fa veramente di tutto per coltivarlo questo pregiudizio e poi devo dire che questa guerra secondo me segna davvero un punto di non ritorno disgraziatamente credo che questa salvo miracoli sarà una situazione che si appianerà tra diversi anni Sullivan l'ambasciatore americano l'altro giorno ha raggiato un'intervista alla TASS che è l'agenzia di stampa russa lui ha detto sperano che non chiudano l'ambasciata lui tra l'altro è di nomina Trumpiana quindi insomma e lui dice che è sicuro che prima o poi la Russia e gli Stati Uniti torneranno a parlarsi ma lui non lo vedrà perché ci vuole tempo e te non lo vedrò neanche io la cosa mi dà molto fastidio anche perché poi per dire Vladimir Putin che ha tutta questa pletora insomma di fan io vorrei capire il motivo guardate io veramente questa è la cosa che viguo non capisco e perché adesso poi non vorrei far paragoniarditi però se un turco dice guarda io ho votato Erdogan per anni e un italiano ammira Erdogan per quanto possa essere io in qualche modo insomma una motivazione la trovo Erdogan comunque ha cambiato un paese ma Putin è portatore di una politica fallimentare a tutti i livelli cioè ha fatto entrare una marea di soldi tramite il gas con cui non ha costruito sostanzialmente nulla se non qualche infrastruttura il resto è finito nelle sue tasche a oliare determinati sistemi nelle tasche degli amici degli amici degli amici e non credo nemmeno solo tutti con passaporto russo se vi devo dire poi il paese ha il pil dell'Olanda e del Belgio voi siete sicuramente molto più ferrati di me su questo argomento ma la Russia non è un paese fiorente hanno dei problemi di denatalità impressionanti uno dei motivi per cui stanno deportando i bambini e anche per sanare questa situazione scusami se ti interrompo io insisto sempre su questo punto in tutte le là che facciamo cioè la Russia la cosa la cosa che è veramente interessante secondo me è che la Russia è una Scandinavia moltiplicato mille cioè le premesse per i russi per essere ricchissimi ci sono tutte perché è un territorio sterminato sono pochissimi con delle risorse naturali potenzialmente infinite per la popolazione ti devo parzialmente correggere perché se ne parla poco ma tutte le risorse naturali della Russia dico anche quelle con cui potrebbero implementare le energie rinnovabili la Russia potrebbe stare in piedi solo con le energie rinnovabili da tanta roba perché è veramente come dici tu una terra baciata dal Signore però stanno distruggendo tutto ci sono dei tassi di inquinamento dei fiumi di cui non parla nessuno due anni fa è scoppiata un'industria su un fiume che porta all'Artico e sta ancora perdendo materiale inquinante dopo due anni ci sono migliaia di ettari in Siberia che bruciano tutti gli anni io ho solo una cosa in comune con Vladimir Putin faccio questa confessione Putin dice sempre che durante la pensione vorrebbe andare in Siberia anche io perché la Siberia è una terra meravigliosa il problema è che rischia di trovarsi la tabula rasa perché la Siberia brucia in una maniera impressionante tutti gli anni ed è uno peraltro dei polmoni verdi del pianeta quindi insomma davvero è un paese disperatamente perso cioè veramente la Russia è proprio un paese che la parola speranza se la deve andare a cercare sul dizionario sperando di trovarla e a me dispiace perché una Russia forte e bilanciata sarebbe assolutamente positiva per un ordine mondiale bilanciato e oltretutto Putin aveva anche una grandissima opportunità quella di fare il battitore libero né con l'Europa né con la Cina e mi piglio il meglio di tutte e due cioè faceva il big player eurasiatico noi diciamo noi siamo eurasiatici ma non vogliamo avere nulla a che fare con nessuno dei due sarebbe stata la sua veramente un capolavoro e invece e invece è veramente ha messo su una guerra da uomo del novecento cioè l'ordine mondiale di domani è nelle mani di uno che pensa con la testa da uomo di ieri del mondo di ieri è una roba questa che veramente voi non avete idea di quanto mi mandi in bestia perché questa guerra è in primo luogo anacronistica colgo guarda colgo lo spunto perché volevo dire una cosa e quello che dici mi veramente mi alza la palla proprio secondo me un 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 buon metro per capire in che direzione vanno le cose sul medio-lungo termine è quello che succede tra i quattrocento e i cinquecento chilometri di altezza dalla superficie terrestre e mi riferisco alla stazione spaziale internazionale che è una l'astronautica è una delle delle mie passioni proprio da ragazzino quindi leggo molte cose era da qualche mese che se ne parlava le voci sono sempre più insistenti del fatto che la Russia voglia sfilarsi dal programma spaziale che tiene in piedi la stazione spaziale internazionale per farla breve la stazione spaziale internazionale è composta da vari segmenti c'è un segmento internazionale in cui c'è sostanzialmente tutti i paesi occidentali e poi c'è il segmento russo sono attaccati insieme sono interdipendenti insomma la Russia ha un ruolo importantissimo in questo in questo programma e ha avuto un ruolo importantissimo fino a pochissimi mesi fa fino a pochissimo prima dell'invasione in Ucraina perché fino a appunto l'anno scorso gli americani e anche gli europei che non hanno mai avuto accesso diretto indipendente alla stazione spaziale avevano dovuto pagare per quasi dieci anni a botte di settanta milioni di dollari a seggiolino i lift dalla terra alla stazione spaziale perché erano rimasti senza space shuttle avevano chiuso il programma perché era diventato troppo costoso e troppo pericoloso lo space shuttle è il veicolo spaziale che ha causato più morti in assoluto di astronauti credo in valore assoluto sicuramente non soltanto in valore assoluto credo da quando gli americani hanno riacquisito la capacità autonoma di raggiungere la stazione spaziale grazie a spacex i russi hanno cominciato a pensare di sfilarsi e siccome questo è un tema che è necessariamente di lungo respiro appunto capire cosa dove vanno a parlare quali siano le intenzioni dei russi pare che vogliano o costruire una nuova stazione spaziale loro indipendente o aggregarsi al programma cinese con blackjack e squillo di lusso quello che racconta Marco è molto interessante perché si pensava che la diplomazia spaziale potesse aiutare in qualche modo quella terrestre però qui sarà molto interessante vedere cosa fa la Cina perché la Cina fino a questo momento almeno da quello che mi dicevano proprio addetti ai lavori di recente è stata molto corretta nell'osservare tutti i protocolli e anche comunque quando lancia nello spazio un satellite avvisa subito quindi c'è una grande correttezza da parte dei cinesi e lì poi si crea davvero un gioco molto pericoloso anche per l'inquinamento dello spazio e tutto quanto perché se tutti quanti si mettono a fare quello che vogliono tra le altre cose ma non sono una specializzata sul tema però forse Marco mi può aiutare e questo potrebbe provocare qualche problemino a livello di Nazioni Unite perché la Russia non è che possa dire ciao ragazzi me ne vado dallo spazio cioè nel senso c'è l'ONU coinvolto l'Utizio ovviamente i programmi spaziali sono stati determinanti per la diplomazia terrestre esatto negli ultimi 50 anni da quando gli americani hanno vinto la corsa alla luna fondamentalmente vinta la corsa alla luna in quei due tre anni in cui hanno mandato uomini sulla superficie lunare dopo aver chiuso quella partita si sono sviluppati si sono sviluppate diplomazie quasi parallele tra gli scienziati delle agenzie spaziali fino a culminare nel progetto della stazione spaziale internazionale che appunto ha coinvolto tutti praticamente tutti i paesi a parte la Cina che avevano capacità e un programma spaziale tra l'altro l'Italia è un player molto più importante di quello che si percepisca nel paese in questo settore ed è un'industria che anzitutto è necessariamente interdependente perché la stazione spaziale qualsiasi oggetto orbita intorno alla Terra intorno a quell'orbita lo fa in un'ora e mezza quindi vuol dire che ogni ora e mezza la stazione spaziale si fa un giro del pianeta immaginatevi questo moltiplicato per tutti i satelliti i detriti spaziali è ovvio che ci sia necessità per far funzionare il sistema di diplomazia interdipendenza comunicazioni efficienti ed efficaci secondo punto è un'industria che sta molto velocemente diventando un'industria privata fino adesso è stato tutto appannaggio delle agenzie spaziali gestite dagli stati dalle federazioni adesso ci sono aziende private che hanno accesso anzi direi che ci sono quasi solo sono lì esatto Bezos ancora no perché diciamo che però Elon Musk è quello che detiene per il mondo occidentale lui l'accesso all'orbita bassa e non solo all'orbita bassa perché Elon Musk al momento è l'unico Elon Musk lui la sua azienda SpaceX è l'unica a detenere la capacità di uno portare astronauti sulla stazione spaziale due portare virtualmente oggetti al di là dell'orbita terrestre oggetti anche la NASA può farlo ovviamente perché manda missioni continuamente però diciamo che per fare un esempio il contratto per le missioni Artemis che dovrebbero otterrare sulla Luna e portare nuovi astronauti sulla Luna l'ha vinto SpaceX quindi insomma è quello che in questo momento ha la capacità di portare avanti il programma spaziale americano fondamentalmente in estremissima sintesi per cui ed è un settore un'industria che sta diventando sempre più concorrenziale quindi ci saranno nuovi player quindi come dicevo appunto è un settore che è fondamentale da tenere monitorato per capire come vanno le cose io però vi devo un po' sfrucugliare su una cosa va bene sfrucuglia sfrucuglia però sfrucuglia il microfono ciao Fabietto buongiorno buonasera il finnico laker finnico il finnico ragazzi comunque hai anche la bronzatura finnica finnica proprio ugro finnica direi ciao Marta buonasera intanto buonasera voi lo sapete quando mi butto dentro è perché cominciano a sentirsi i titoli di coda il crawl i saluti e queste cose qua segnale poi prego Nicola dicevi vai Nico non è che nelle democrazie occidentali stiamo passando un bellissimo periodo è che ci insomma ci guardiamo allo specchio vediamo delle cose terrificanti e un po' ci facciamo belli grandi grossi in salute però ecco lo stato delle nostre democrazie non è proprio meraviglioso e non soltanto per quello che ci siamo detti per la propaganda per gli attacchi per questo e quest'altro ma perché anche noi siamo messi un po' un po' maluccio insomma al di là di tutto la democrazia americana per esempio non dà un bello spettacolo di se stessa e non lo dà da tempo cioè è vero che tu guardi Putin Lavrov e roba del genere io non riesco a dimenticare con Powell ok va bene insomma no ma ci chiedevano proprio in chat cosa ne pensavamo fra l'altro quindi il tuo commento viene proprio a fagiolo in realtà ecco tu sei il Deus Ex Machina il webmaster no stavo guardando ci chiedevano cosa pensavano di Biden e poi c'è un altro tizio che tizia non lo so no Daniele no tizio che ha scritto ah perché in America il presidente conta qualcosa pensavo che contassero solo le lobby le banche finanziarie voglio dire il solito l'americano no no ma non è così ragazzi non è che essere i commenti cioè veramente mai una volta sanno io ho risposto ho risposto sarcasticamente abbiamo altri luoghi comuni tipo che dove si fermano i camionisti si mangia bene il pesce rende intelligenti non ci sono più le mezze stagioni eccetera pesce rende intelligenti no perché c'è biondo abito al mare no perché sennò io avrei una capoccia grossa così però detto questo è un momento difficile per la democrazia americana io sono molto d'accordo con questo ma anche per la anche per la nostra democrazia cioè noi noi abbiamo non c'è un paese che sia un esempio virtuoso in questo momento sì esattamente in questo se c'era nobiltà nella guerra fredda c'era perché ci si sforzava almeno di apparire migliori di quelli che che eravamo e questo vale anche per i russi per i sovietici che tentavano di apparire migliori adesso no insomma un po' tutti sguazziamo nel fango dicendo eh però quello è più sporco di me non è meno pulito di me ma è più sporco di me e questa è una cosa preoccupante io continuo a a pensare che che il nostro futuro si assomigli sempre di più al bar di Guerre Stellari o o alla fine di Blade Runner insomma eh e che quello che stiamo vedendo è l'ultimo barlume del novecentesco in cui ci si litiga ancora fra comunisti anticomunisti liberisti liberali e tutto il resto eh ma questa è la mia piccola mente che non riesce a spingermi a spingersi più 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 in avanti però insomma questo va detto insomma va ricordato perché se no vuol dire che saremo strabici insomma non è così tra l'altro ci suggeriscono di bere molta acqua nelle giornate di caldo così perché e di uscire nelle ore e di uscire nelle ore meno più soleggiate e di non uscire nelle ore più soleggiate comunque solitamente queste facezie le dico io che è il mio mestiere che le dicano Marta e Marco che sono persone serie per bene educate è il segno dei tempi Nicola è il segno dei tempi è il segno che c'è qualcosa che non va nelle nostre democrazie no più che altro è il segno del fatto che a quasi quattro mesi di guerra veramente inizia a diventare proprio anche una guerra di nervi e molto stressante certo certo media fatica è anche vero che la storia insegna che è un regime che dura circa vent'anni quando si imbarca in una guerra prima o poi chi l'ha portato in una guerra finisce sottoterra il problema è chi viene dopo questo è quello che la storia racconta insomma questo è vero il problema è che il problema è anche chi viene dopo visto che Putin non avrà un successore ma un sostituto i nomi che si fanno in questo momento fanno fermare le vene nei polsi e la Russia purtroppo se collassa è un problema per tutti quanti oltre che per i russi ovviamente ma infatti Marta la situazione è veramente preoccupante chi dice chi dice di sperare in un'Ucraina libera io non me ne voglia nessuno ovviamente io spero prima in una Russia libera perché di conseguenza poi tutto il resto arriva dopo vabbè ma io sono un cinico romantico per cui questa cosa ve la dovevo dire insomma no 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 sicuramente sicuramente il problema io tra le altre cose voglio dire una cosa con questo chiudo visto che è proprio la mia materia di specializzazione chi pensa che sia finita con questa guerra con questa guerra convenzionale insomma finita sia finito tutto si sbaglia di grosso Putin troverà il modo di mettere le mani su alcuni pezzi di Ucraina sicuramente con procedure di guerra non lineare quello che peraltro avrebbe dovuto fare anche in questa circostanza se avesse dato retta il suo Stato Maggiore l'uomo è fatto così insomma d'altronde è un piccolo uomo un volgare spione che era stato mandato alla fine dell'impero sovietico in Deder per cui insomma siamo noi che l'abbiamo fatto diventare questo giocoliere questo scacchiere insomma devo dire che i giornali italiani solitamente hanno una capacità di analisi clamorosa per esempio chiamavano Davide Casale Leggio lo Stratega e qua potremmo ripartire con una nuova live no io una volta dissi a un caro caro amico voglio essere la prossima volta che ci sentiamo voglio essere chiamato piccolo Pelè ovviamente mi ha affettuosamente mandato a quel paese non l'ha fatto insomma però anche questo cioè noi ragioniamo molto ovviamente sulla propaganda la propaganda la vediamo tutti i giorni essere uomini e donne libere significa anche ripulirsi con una doccia di buonsenso e di ragionevolezza da tutto quello che ci viene raccontato tutti i santi giorni insomma e non mi fate parlare del referendum se no mi arrabbio davvero io non capisco questi commenti sinceramente ci chiedevano che succede voi leggete cose che noi non sappiamo vedi 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 Fabio che fa che fa che mi dice a me ma no ma non ci farei caso appena appena c'è un metto contro di lui no no non è contro questo qua è a favore anzi è qualcuno che stava cercando di darmi manforte perché giustamente sa che quando arrivo io bisogna chiudere abbiamo abusato anche troppo della cortesia dei nostri ospiti Giulio sei padrone di casa qua stasera perché ho visto sparire Costa mi sono preoccupato fra l'altro la cosa bella che sarà questa è che Costa ha detto in inizio live Giulio si è offerto in realtà no questa volta mi aveva invitato lui a me ha fatto piacinissimo ovviamente e Costa si è dato e dice no terzi ben si te a gestire la live e lettere di che cosa si sarebbe parlato fino a 5 minuti prima ho detto apposto spero che non essere l'unico poi per fortuna appunto è arrivato in soccorso mi hanno briffato sul tema no molto rapidamente sul referendum perché ce lo chiedevano anche in inizio live in realtà chiedevano a me e a Marco Canestrari perché proviamo fuori cosa abbiamo votato allora non c'è una linea politica di Liberi Oltre sul referendum Michele questo l'ha ribadito e questo ci tengo a sottolinearlo anzi noi Liberi Oltre ha fatto Michele ha fatto un bel dibattito su questo quindi io vi sto dicendo il punto di vista di Giulio Anichini e tale deve essere interpretato quindi non sto assolutamente esprimendo l'opinione appunto di Liberi oltre su questo ma io personalmente l'ho detto in una live sul canale di Michele in realtà questo proprio l'altro giorno sono tendenzialmente contrario allo strumento referendario su quasi tutto in realtà addirittura roba tipo usano etanasia e cose del genere perché io penso ci siano dei principi che in realtà vanno fatti passare indipendentemente da quella che è la volontà popolare che può sbagliare sono estremamente classista da questo punto di vista mi rendo conto ha maggior ragione su questi tecnicismi cioè questa roba secondo me l'uomo della strada che può essere anche plurilaureato e avere un curriculum della Madonna secondo me non dovrebbe essere chiamato a votare capisco che possa essere un'opinione assolutamente impopolare non pretendo di avere ragione su questo io non penso che su politiche energetiche comunitarie giustizia cose così tecniche non penso io personalmente non penso di avere gli strumenti adeguati per andare a votare su questa roba mettiamola così poi se 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 non voglio scatenare ripeto non voglio scatenare le aree altrui è la mia opinione ed è come mi sono regolato io su questo ecco commento anch'io ricordando che appunto Liberi Oltre non ha non ha una linea una linea su questo tema io penso che l'istituto del referendum che a me in realtà piace però è uno strumento che funziona quando viene utilizzato spesso e quando ha delle conseguenze reali perché nel corso degli anni poi il corpo elettorale si impara ad usare lo strumento io personalmente ho votato ho votato un no e quattro sì sapendo che il quorum non sarebbe mai è stato raggiunto peraltro quindi insomma è una cosa così che ho fatto più per me che per il referendum per le conseguenze appunto come dicevo prima penso anche e credo che sia la cosa più importante che con il fatto che ormai si possono raccogliere firme digitalmente abbia comunque completamente cambiato significato dell'istituto rispetto a quanto rispetto a quanto fosse previsto dai costituenti quindi credo che il vero tema non il vero insomma un tema importante che andrebbe su cui andrebbe fatto un dibattito sia questo cioè è lo stesso istituto che avevamo fino a cinque anni fa o col fatto che adesso si raccolgono mezzo milione di firme in pochi giorni cambia il suo significato proprio come istituto democratico previsto dalla costituzione secondo me lo cambia però un dibattito secondo me dovremo farlo su questo promesso lo faremo promesso parliamo nella prossima sera non stasera esatto lasciamo andare Marta fra l'altro che appunto abbiamo abusato della sua pazienza comunque ho votato anch'io sono andata a votare stamattina alle 7.45 sì io ribatisco nella maniera più assoluta che questa è proprio una mia opinione personale che può essere continuabile io colgo il punto e mi trovo anche abbastanza d'accordo con te assolutamente anche perché è una classe politica degna di questo nome si deve anche prendere responsabilità esatto esattamente il problema è quando non ce l'abbiamo in una delle mie chat con uno dei miei amici un mio amico in maniera molto più diciamo colorita di me ha detto esattamente fra l'altro ha detto esattamente questo ha detto io pago gente perché prenda queste decisioni io non faccio il magistrato faccio l'ingegnere che ne so io quali sono i propri contro di la custodia cautelare preventiva su quali reati sono d'accordo detto questo io stamattina sono andata diligentemente a votare perché comunque è un esercizio che assolutamente del quale assolutamente mi voglio avvalere finché mi sarà data la possibilità di fare e va bene così è chiaro che alle prossime elezioni ci sarà un problema enorme su chi votare insomma però ecco al seggio io vado mettiamola così poi magari annullo la scheda voto i fisici per l'Italia faccio da qualunque però al seggio vado sempre assolutamente c'è gente che è morta per darci questo diritto non ce lo dimentichiamo mai la libertà è partecipazione esatto vorrei farvi notare che i partiti che hanno raccolto le firme per questi referendum se avessero voluto avrebbero potuto fare la chiamata alle armi nel senso insomma democratico e chiedere ai propri elettori di votare non l'hanno fatto perché no no sono d'accordissimo cioè Sciascia li avrebbe definiti come sapete tutti cioè quindi il problema è chi raccoglie le firme e poi non si gioca la partita vuol dire che la partita non la voleva giocare perché non la voleva giocare però su questo ovviamente mi fermo qui volevo scusare perché c'è Luca Romano e mi interessa rispondergli perché è una persona che ovviamente stimo in chat non dico su cose tecniche ma su questioni morali i referendum servono la prima di tutto alle politiche vado sempre a votare anch'io ovviamente sui referendum tendenzialmente no perché come Luca fra l'altro sa purtroppo ho votato cazzate in passato sono molto pentito proprio perché appunto non mi riferisco eh vabbè capita poi sul discorso delle questioni morali allora sono sono tendenzialmente più favorevole a quei referendum che a quegli altri sicuramente detto ciò anche là ripeto cito l'eutanasia perché riguarda il mio lavoro molto da vicino non sono sicuro che in realtà l'eutanasia cioè una legge sull'eutanasia io credo che sia corretta in linea di principio e non sono sicuro che debba essere diciamo votata dalla volontà popolare ecco ci sono dei principi che che non non so se ah non è l'avvocato dell'atomo perfetto vabbè comunque ti rispondo comunque ecco dal mio punto di vista è anche quello cioè una legge sull'eutanasia l'Italia ha bisogno di una legge sull'eutanasia indipendentemente da quello che la gente pensa sull'eutanasia quindi non lo so ripeto ne parliamo ad un'altra puntata io direi che a questo punto parleremo senz'altro abbiamo raddoppiato la pezzatura ragazzi di solito siamo sui tre quarti d'ora cinquanta minuti siamo a un'ora e ventidue un'ora e ventidue sono molto abbondanti taglio molto abbondante abbiamo lasciato Marta sta facendo così andiamo a casa ce lo dice da 20 minuti Marta no è che veramente è un periodo proprio io dicevo in pre dicevo in pre dicevo in pre live che io a quest'ora di solito mi metto sotto le copie per leggere insomma va bene abbiamo capito volete andare tutti io sarei rimasto qua ancora un paio d'ore ma vedo che invece il consenso va verso la chiusura quindi as usual chiudiamo chiudiamo ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito tantissimi grazie a Marta grazie a Marta tantissimo grazie a tutti voi quando volete sono qua e alla prossima riunione io ringrazio Giulio per aver tenuto come dire intanto la regenza intanto che correremo sul pannello e anche per gli effetti di luce di colore esatto esatto mi hanno scritto in chat che è un effetto che aveva Nick a quel punto l'ho aggiunto anch'io perché io ho la lampada quella colorata che vi mostro anche questa qua cambia colore di continuo e quindi io invece ho messo sotto la base audio un po' late night un po' così per dare questo sapore questo tocco un po' diciamo che uscito Costa abbiamo preso uno il controllo molto bene dai ottimo buonasera da tutti ciao a tutti alla prossima grazie a voi ciao forza grazie grazie per avermi ascoltato fino a qui se ti piace questo podcast lascia un like un commento una recensione ovunque tu lo stia ascoltando iscriviti e condividilo con i tuoi amici questa puntata è stata ideata prodotta e montata da me Marco Canestrari la foto di copertina è di Sara Grandieri mi puoi seguire su Twitter e Telegram cercando il nuovo utente Marco Canestrari iscriverti alla mia newsletter sul sito marcocanestrari.it o anche mandarmi un messaggio vocale dall'indirizzo marcocanestrari.it slash parla